musica 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 oh, qual'è? se sta in favola oggi al sole insomma fa un caldo però c'ho sede, c'ho un'alzura proprio sai che non andrebbe una peretta bella ghiacciata che metto sul video dopo così poi c'è una marbrato se si mettono la stagliate e chi ci ammassa con che sappiamo questa canetta? io non c'ho spicci io non c'ho la spicci fammi vedere se c'è manco un centesimo tra i turisti dai, con i turisti sai quanti sono una monedina del qua, una monedina del là che ti pensi che ci danno? una marzo un po' di spicci dai, dai, andiamo che c'ho proprio una voglia, mamma mia sì, c'ho troppa sede no, mamma mia ciao 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 ciao